Nasce esattamente il 19 luglio del 2018, un giorno simbolo, un data simbolo perché ricade proprio nell'anniversario della strage di Via D'Amelio. In quella data è partito questo coordinamento, un coordinamento che ricordo è un coordinamento delle commissioni e degli osservatori nazionali sul contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della legalità. Nasce appunto per volontà, potremmo dire tranquillamente, dell'ora presidente della commissione antimafia Rossi Bindi, che nella chiusura appunto del suo rapporto di fine mandato indicava proprio questa sua volontà e indicava esattamente alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome, quale organo deputato, il miglior organo che potesse recepire questa sua volontà che quindi è appunto quella di coordinare tutti gli osservatori, tutte le commissioni sul territorio nazionale. Grazie. Grazie.